Guardi, mio figlio si è innamorato di lei, mio figlio mi ha detto, mio figlio Alberto, sì, me l'ho dimenticato di nome, alla festa di compleanno voglio Mago Temperino. Signora, io mi chiamo Mago Chicco, non Mago Temperino, dico così, per dire. Vabbè uguale, dai, un chicco di temperino, un temperino di chicco, insomma, insomma, si è innamorato di lei, mio figlio. Guardi, secondo me lei non ha trovato nessuno e sta ripiegando su di me. Ma lei non mi crede? Non sta credendo alle mie parole? Crede che io sono una persona importante a Palermo. Perché lei chiesco, sì. Sono la presentessa del comitato regionale e provinciale mondiale delle donne impegnate nel sociale. Presentessa del comitato regionale e provinciale, manco lei lo sa, ma lei mi prende in giro, ma per favore, guardi. Mi lasci perdere. Arrivederci.